Fa la partenza la quinta serie dei 400 maschili. Dall'interno Singer, Vellanda, Trapletti, Piccioni, Castagna e Dosi. Il miglior accredito è il 54,38 del Bergamasco Trapletti in corsi a tre. Attenzione di vista, per favore. Ragazzi, 100 metri a finire, forza. Corsia, 6 per dopo, ma all'interno in 3. Diego Trapletti, Trapletti, Diego Trapletti, allievo dell'Azendica Bergamo, che si aggiudica questa serie la quinta. Grazie.